Siamo ritornati, fratelli d'Italia! Oggi sta tuonando proprio! Tuona, tuona, tuona! Banana! Go, 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 banana! Go, 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 banana! Go, banana! Go, 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 go! Pingo Pongo! Mamma, mi compri Pingo Pongo! Certo che ce lo compro! Quanto costa un Pingo Pongo? Mille e sei! Ma tu sei proprio matto! Facciamo mille e quattro! Italiano messicano! Bum, bum, bum! Lo metti nel video? Sì! Lo metti su YouTube! Papà! Oggi sta tuonando! Come va? Suona, suona, suona dal cielo! Cosa ci fa questa matita qua? Cosa ci fa? Come va? Oh, mio! Cosa ci fa? Dove sto qui! Cosa ci fa? Vero, papà? Cos'è questa? Cos'è questa? Ma? Oh, mio! Oh, mio! Ma perché sta tuonando così forte? oh my god ma non benissimo, oh my god ma, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh, 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 oh ma mecca il lettore di Udi pronto? ma fa schifo questo che cos'è questo? pronto? stiamo facendo una telefonata dammi pronto? pronto si pronto no sto telefonando a Shade è una 1,5,6,3,8 pronto Shade ma quant'è? sono il nuovo youtube come va la vita? la vita mamma non mi ha detto parla a te papà fai finta di essere a Shade ehi ciao che c'è? come va la vita? bene grazie ho fatto appena adesso la cacca e sono a posto tu? sei fatto di bello? sono il nuovo youtuber ah si Raul Raul youtuber? si e di che cosa fanno le tue trasmissioni youtube? sulla mia vita della tua vita? e basta? basta? non di giochi? si anche su di sport di sport anche? solo che solo che solo che ho fatto solo il primo video ho fatto solo il primo video ho fatto il primo video vorrei farne ancora? si e io sto facendo il secondo video ora ah se è questo? si cavolo che diretta ma chi è questo? ma va 5 6 3 8 va 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 e non racconti nient'altro? no chiudo o di entro insieme si perché non voglio perdermi temporale non voglio perdermi in giro vero? parla parla papà non ti vuoi prendere in giro in questo senso non ho non mi voglio bagnare di pioggia sono fuori all'aperto no c'è il temporale in arrivo vabbò corro corri corri ciao ciao oggi sul canale abbiamo chiamato Sare un sacco di pollizioni all'insù come fa io e se volete seguirmi l'altro video che ho fatto si chiama ciao mi chiamo Raul o ciao sono Raul ciao oppure ciao Raul ciao sono Raul oppure ciao Raul ciao ragazzi ciao